Musica Dopo di noi parte il progetto in via Elisa a Lucca sarà realizzata una struttura per i disabili gravi che non possono più contare sull'assistenza della famiglia. Violentata e rapinata è accaduto a Massarosa, vittima dell'aggressione una prostituta, arrestato un 36enne fiorentino. Uffizi diffusi a Palazzo Ducale, lo storico Palazzo Lucchese si candida ad ospitare alcune opere minori del celebre museo fiorentino. Lucchese va a picco sprofondo rosso nero, anche la pro patria espugna il porta Elisa 2 a 1, nei primi minuti ospiti a segno con Micco e Brignoli, troppo tardiva la reazione dei rossoneri che accorciano nella ripresa con Petrovic. Ben trovati a questa edizione del TG Noi, in apertura l'iniziativa che vede l'apertura, l'avvio del progetto Dopo di noi. In via Elisa verrà realizzata una struttura per accogliere i disabili gravi dopo che non potranno più contare sul supporto dei familiari. Ci spiega tutto Egidio Conca. Sorgerà a Lucca in via Elisa la casa del Dopo di Noi, la struttura destinata ad ospitare i disabili gravi che non possono più contare sull'assistenza dei familiari o dei parenti più prossimi. Il primo atto verso la realizzazione della comunità è stato presentato in San Micheletto dai soggetti promotori, la Fondazione Cassa di Risparmio e la Congregazione delle Suore Ministre degli Infermi, meglio conosciute come Barbantine. Si tratta della firma del vincolo di destinazione dell'immobile rilasciato a favore della Fondazione che provvederà alla gestione dei lavori. L'immobile di proprietà della congregazione è una parte del monastero della Santissima Trinità posto all'interno dell'isolato compreso tra via Elisa, via del Fosso, via del Calcio e San Micheletto. La casa del Dopo di Noi ospiterà due comunità alloggio protette per disabili, da otto posti ciascuna, oltre a quattro posti per le emergenze, e mira a rispondere ad un'esigenza sociale non facile come quella della cura dei disabili rimasti senza una famiglia che li possa assistere. È un'iniziativa estremamente importante, qualcosa che oggi sul territorio è diciamo carente e quindi in questo modo credo che sia doppiamente valida. Ha un impatto sociale importantissimo, non perché va a raggiungere molte persone, ma va a raggiungere persone che forse hanno più di tutte effettivamente bisogno. L'importo dei lavori di ristrutturazione dell'immobile che ospiterà la comunità ammontano a circa 2 milioni e mezzo di euro, due messi a disposizione dalla fondazione, mezzo milione dalla congregazione. Il progetto tra l'altro è stato recentemente illustrato all'Anfas di Lucca, che ne ha condiviso le linee essenziali. E cambiamo pagina, il momento dell'aggiornamento riguardo ai nuovi casi di positività al Covid-19 tornano a salire sopra quota 750 a livello regionale. Allora andiamo a vedere nel dettaglio i dati, sono 773 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore in regione, i pazienti ricoverati nei posti letto Covid sono 836, 15 in meno rispetto alla giornata di ieri, 137 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 4 in più rispetto a ieri, si registrano anche 22 decessi. Andiamo ai dati provinciali, sono 100 i nuovi casi, nel dettaglio 27 fanno riferimento alla Piana di Lucca, 1 ad Alto Passo, 6 a Capannori, 14 a Lucca, 2 a Monte Carlo, 1 a Pescaglia, 3 a Porcari, 20 casi in Valle del Serchio, 1 a Bani di Lucca, 14 a Barga, 2 a Borgamozzano, 1 a Castiglione di Garfagnana, 1 a Fosciandora, 1 a Gallicano, 53 nuovi contagi in Versilia, 9 a Camaiore, 1 a Forte dei Marmi, 5 a Pietrasanta, 1 a Seravezza, 37 a Viareggio. E per ricevere tutte le informazioni relative al Covid-19 è stato attivato un numero unico per InfoCovid. Sentiamo il servizio. È lo 055 90 77 77 7 il numero unico per ricevere le informazioni relative al Covid-19 in Toscana. Il servizio, realizzato dalla Regione in collaborazione con l'azienda sanitaria, ha preso il via in queste ore. È stato il Presidente della Regione, Eugenio Gianni, a presentare questa novità insieme al coordinatore del Centro di Ascolto regionale, Matteo Meloni. Un numero unico dunque a cui i cittadini potranno rivolgersi per tutte le questioni inerenti alla malattia, i percorsi sanitari da seguire, le modalità di prenotazione dei tamponi e tutte quelle che riguardano la campagna vaccinale. Circa mille le chiamate arrivate nel primo giorno di attività agli operatori della centrale, composti in massima parte da studenti della Facoltà di Medicina. Il cittadino telefona e chiede informazione e orientamento su tutto quello che riguarda i percorsi Covid, quindi la prenotazione dei tamponi, fine isolamento, rientri dall'estero, campagna vaccinale, quindi quali sono le categorie, tutto quello che riguarda il mondo del Covid, dei percorsi che vengono effettuati e quindi il cittadino si trova a dover affrontare nel caso abbia bisogno di avere un percorso Covid. Ci spostiamo adesso a Massarosa, una prostituta è stata prima violentata e poi rapinata, è stato arrestato un 36enne fiorentino. Sentiamo Luigi Casentini. I carabinieri della stazione di Massarosa al termine di un'attività d'indagine hanno arrestato Jonathan Fallani, fiorentino 36enne, ritenuto responsabile dei reati di violenza sessuale, rapina aggravata, lesioni personali e porto di armi atti ad offendere. I fatti risalgono lo scorso 29 gennaio, quando il soggetto, dopo aver preso un appuntamento tramite un annuncio su un sito di incontri, si è recato a Massarosa presso un appartamento in uso ad una giovane prostituta. Dopo aver consumato un rapporto sessuale dietro pagamento, l'uomo ha richiesto alla ragazza un rapporto non protetto, ricevendo un secco rifiuto. Rifiuto che ha fatto scattare la violenza. Il Fellani ha prima colpito la ragazza con schiaffi e pugni e poi le ha puntato un coltello alla gola e l'ha costretta a subire il rapporto non protetto, facendosi infine consegnare il denaro che aveva in casa, circa 500 euro, per poi scappare. La giovane, subito dopo essere riuscita a chiamare carabinieri, è stata portata al pronto soccorso, dove poi è stata dimessa con una prognosi di 21 giorni. I militari dell'arma hanno subito avviato le prime indagini e tramite le telecamere di videosorveglianza presenti nei pressi dell'appartamento della ragazza, sono riusciti a risalire alla tua vettura utilizzata dall'uomo per la fuga. Le successive indagini hanno portato all'individuazione del Fellani in un appartamento di Firenze, la cui perquisizione ha consentito di rinvenire il coltello utilizzato contro la vittima. L'uomo è stato quindi condotto nella casa circondariale di Prato. Il Comune ha annunciato alcune misure di sicurezza anticadute dalle mura urbane. Ovviamente queste misure stanno suscitando diverse reazioni. Ci racconta tutto Egidio Conca. Stanno suscitando reazioni le misure di sicurezza anticadute dalle mura urbane di Lucca annunciate dal Comune. Sui social la stragrande maggioranza dei pareri è contraria agli interventi sul massimo monumento cittadino. In netta minoranza coloro che ritengono che le misure siano invece necessarie e non eccessivamente impattanti. I principali interventi previsti dal piano, all'attenzione anche della soprintendenza, sono due. La risagomatura dei terrapieni sul lato esterno delle mura, che saranno più ripidi e leggermente più alti, pensata per scoraggiare passeggiate sul bordo della cinta muraria. e il posizionamento delle cancellate metalliche sul lato interno del monumento e sulle parti interne dei baluardi, ritenute più pericolose. L'assessore ai lavori pubblici, Marchini, ha specificato che agli inizi di marzo si prevede di chiudere la conferenza dei servizi e di procedere all'approvazione del progetto definitivo in giunta. A quel punto il progetto sarà portato in visione anche ai consiglieri comunali nell'ambito della Commissione dei Lavori Pubblici. Intanto c'è già la presa di posizione del gruppo Siamo Lucca, che ritiene inaccettabile l'impatto delle misure sulle mura, in particolare delle ringhiere, ed ha annunciato una raccolta di firme contro il progetto. E adesso andiamo a Marglia. Alcuni residenti ci hanno segnalato le condizioni del manto stradale del viadotto nei pressi del supermercato S. Lunga. Si sono create infatti crepe e spaccature anche molto profonde che il continuo passaggio dei camion e degli auto articolati che transitano su tale strada creano tremorie alle abitazioni nelle vicinanze. Nonostante le numerose chiamate alla provincia, nessuno, dicono, è intervenuto sul luogo. I lavori sarebbero previsti ad aprile, concludono i residenti, ma sarà difficile sopportare fino a quel momento i disagi. E adesso una precisazione riguardante la discarica abusiva in Padule a Porcari. Il luogo dove sono stati abbandonati i rifiuti è sul territorio comunale di Porcari e non di Capannori. Una bella iniziativa invece adesso è stata lanciata dal direttore degli uffizi, Eike Schmidt, che ha proposto una sorta di uffizi diffusi, quindi esporre anche in altri luoghi le opere custodite attualmente nei magazzini delle gallerie fiorentine. Tra questi luoghi deputati si è candidato anche Palazzo Ducale. Palazzo Ducale si candida formalmente come sede degli uffizi diffusi. Il grande progetto è di valorizzazione e divulgazione culturale presentato dal direttore del museo, Eike Schmidt, che prevede di utilizzare delle location inedite per esporre al pubblico le moltissime opere d'arte custodite nei magazzini delle gallerie. Sono già diversi i siti in lizza. Si parla di un numero compreso tra 60 e 100, tra musei civici, palazzi, ville e dimore storiche. È un'iniziativa molto importante che raccoglie il nostro favore, che può permettere al nostro territorio di avere una centralità e l'occasione anche di un rilancio da un punto di vista turistico e quindi di attrazione turistica. E infine è un'iniziativa che risponda a piano quelle che sono le linee di programma che stiamo portando avanti proprio su una rifunzionalizzazione e valorizzazione di Palazzo Ducale come palazzo di tutti e come palazzo dove accogliere chi arriva a Lucca e iniziare a raccontare la storia di questo territorio. Da ben otto secoli centro politico e amministrativo di Lucca, Palazzo Ducale oggi ospita la provincia e la prefettura cittadine, ma vanta anche diverse sale monumentali come il quartiere di Parata, la sala degli staffieri e la loggia dell'Ammannati, che si sono già prestate ad ospitare esposizioni temporanee e che quindi potrebbero facilmente accogliere anche i capolavori del Museo Fiorentino. Un'opportunità per le opere d'arte che potrebbero finalmente trovare uno spazio per essere apprezzate e anche per gli stessi ambienti di Palazzo Ducale, ricchi di affreschi, preziose porte intarsiate e alti soffitti a cassettoni. Adesso andiamo a Gallicano, dove il progetto ASSO, scuola di soccorso, arriva nelle scuole di infanzia. Di certo è una delle prime volte che il progetto ASSO, la Toscana scuola di soccorso, approda in una scuola dell'infanzia e questo è avvenuto nella nuova scuola di Gallicano, dove le insegnanti hanno chiesto alla misericordia di portare il corso voluto dalla regione toscana, ma soprattutto portare l'educazione del volontariato anche tra i bambini più piccoli. Il far passare l'idea del volontariato anche sin da piccoli, quindi sin dalla scuola dell'infanzia, attraverso chiaramente una procedura didattica adeguata, quindi attraverso racconto di fiabbe, di storie con i bambini, è importantissimo per far sì che crescendo si formino una mentalità che sia dedita proprio all'altruismo, all'aiuto reciproco. Ad organizzare l'evento nel paese Garfagnino è stata la locale misericordia. Sì, siamo partiti proprio dai 3-6 anni come misericordia di Gallicano con questo corso e naturalmente tutte le esigenze della scuola vengono soddisfatti perché anche all'elementare poi andremo a fare il corso successivo, sempre con questo asso a scuola di soccorso e cerchiamo di iniziare i bambini al volontariato, al mondo del sociale e del sanitario della nostra misericordia. Ad aprire l'incontro e portare il saluto dell'amministrazione è stato invece il primo cittadino di Gallicano, Davide Saisi, che ha ringraziato i componenti della misericordia per l'importante lavoro che stanno svolgendo sia nel periodo di pandemia ma anche per il normale lavoro quotidiano. Lo scorso anno il progetto ha formato circa 35.000 giovani nelle scuole elementari e medie della Toscana, di cui oltre 2.000 nella nostra provincia. Qui si parla di bimbi dell'infanzia, quindi non c'è molto la cognizione forse di un vero e proprio primo soccorso, però attraverso il gioco, attraverso un racconto di una favola, si può entrare comunque nell'ottica dell'insegnamento continuo che perseguono un po' le misericordie con la formazione del primo soccorso, con il progetto ASSO nelle scuole. Si parlerà del comune di Villa Basilica nella prossima puntata di Dido, che andrà in onda il prossimo venerdì alle ore 21.15, proprio su Noi TV. Sarà ospite la sindaca Elisa Anelli e ci sarà anche la possibilità di inviare commenti e domande tramite SMS o messaggi WhatsApp. Chiudiamo così la prima parte del nostro telegiornale, ci fermiamo qualche istante ma poi torniamo subito dopo con la nostra pagina sportiva. Grazie.